Certamente è una debacle dell'Occidente e non lo sottovalutiamo perché noi, direi tutti noi, apparteniamo a generazioni privilegiate, generazioni che hanno avuto il privilegio di conoscere i valori della libertà e della persona e che si sono abituate a considerare questi valori, i valori della libertà e della persona, come valori non negoziabili, come valori intrinsecamente presenti nelle nostre società e invece ci dobbiamo rendere conto che se vogliamo garantire anche alle prossime generazioni questo privilegio c'è una sfida aperta perché il modello che dà per scontata la centralità della persona e la irrinunciabilità della libertà non è un modello unanimemente condiviso a livello globale. Quindi quando parliamo di Occidente ci sentiamo tutti chiamati in causa perché è una causa che ci riguarda tutti e riguarda il futuro delle prossime generazioni. Io credo che l'Unione Europea abbia il dovere di lavorare sull'accoglienza e su quote di immigrazione legale dei rifugiati afghani e abbia il dovere di farlo anche togliendosi l'alibi dell'unanimità nelle decisioni perché ci saranno sempre 4, 5, 6 paesi contrarie a una politica di accoglienza e di quote di immigrati legali non sto parlando di aprire le porte a chi che sia e quindi che questo si può fare si deve fare con quello che le regole europee definiscono cooperazione rafforzata con la protezione temporanea e la protezione temporanea cari amici si decide a maggioranza non all'unanimità quindi niente alibi se si vuole dare una mano sui rifugiati, sull'accoglienza e sulle quote lo si può fare anche decidendo a maggioranza. grazie 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 grazie